Come aiutare i bambini che non leggono, che magari frequentano la seconda o addirittura la terza classe primaria e ancora la lettura non è partita. Bene, per prima cosa dobbiamo comprendere non solo perché non è partita la lettura ma anche come si sviluppa la lettura. Il primo motivo potrebbe essere che siamo di fronte a un disturbo specifico dell'apprendimento, in questo caso una dislessia, ma dobbiamo anche conoscere come si sviluppa la lettura in modo normotipico, ovvero seguendo determinate fasi di lettura. La prima fase, che è un prerequisito per tutte le altre fasi della lettura, è essenziale affinché un bambino possa partire appunto con saper leggere. E questa prima fase si chiama consapevolezza fonologica. Dunque quando un bambino non parte proprio nella lettura lo andremo ad aiutare con esercizi che lavorano sulla metafonologia. Ad esempio questo, giocare con le parole 2. Adesso vi farò vedere qualche scheda nel dettaglio. Ad esempio in questo esercizio è necessario ritagliare le figure seguendo le linee tratteggiate. Poi sarà richiesto al bambino di radruppare quelle che iniziano con K e quelle che iniziano con Fi e di andarle ad incollare nella capanna giusta che troviamo nella pagina seguente. Quindi tutte quelle con K saranno inserite qui, tutte quelle con Fi saranno inserite qui. Il libro poi prosegue con tantissimi altri esercizi sulla consapevolezza fonologica. Dunque sull'abilità di saper riconoscere a livello acustico le varie parti della parola. Ad esempio cercando l'incluso, ovvero trovando la parola che inizia in modo diverso da tutte le altre. Leone, libro, lumaca, letto, fiore. Cosicché da abituare il bambino a saper riconoscere e discriminare le parole attraverso un'analisi acustica delle stesse. Questa della consapevolezza fonologica è l'abilità più importante per lo sviluppo della lettura e anche dell'ortografia. Bene, questo è solamente uno dei tanti, tantissimi materiali che andiamo a vedere nel corso online sul potenziamento dei DSA. Che trovate nel sito gelucalopresti.net Vedremo tantissimi altri materiali sulle abilità fonologiche, sulle abilità visive della lettura, sulle abilità lessicali. E poi ancora sulle abilità sia lessicali che fonologiche dell'ortografia. Come aiutare i bambini con le problematiche nella grafia, nel calcolo. Insomma, è il corso più completo per aiutare praticamente i bambini con DSA a sviluppare le abilità di lettura, scrittura, grafia e calcolo. Ci vediamo a fine mese e speriamo che anche tu possa far parte dei nostri. Ciao!